Presidente Marco Podesta, quest'anno a San Giovanni anche raccolta differenziata, anche un messaggio concreto per il rispetto dell'ambiente. Come sta andando? Sì, sta andando bene, direi procediamo e miglioriamo di giorno in giorno. Devo dire che abbiamo dovuto prenderci un po' le misure perché non è tutto semplice, però siamo riusciti riorganizzandoci un po', abbiamo un'ottima percentuale, direi siamo oltre il 65% e stiamo crescendo in questo. Il nostro obiettivo è superare il 70% e anche dare un messaggio ai cittadini che si può fare, si deve fare per un risparmio. Noi abbiamo visto che impegnandosi diventa semplice poi la questione, anche se inizialmente bisogna prendere un po' di pratica, poi soprattutto con i nostri numeri, migliaia di persone ogni sera non è così banale. Ebbè ma se queste sono le percentuali, Presidente, finirete col battere il Comune d'Imperia? Beh penso di sì, che siamo molto oltre, già l'anno scorso non siamo andati male, ma quest'anno anche la percezione è migliore, anche noi abbiamo fatto un grosso sforzo, un impegno organizzativo, devo dire grazie alla Tecno Service che ci ha comunque supportato con un servizio eccellente e il Comune d'Imperia naturalmente che ha messo a disposizione risorse, forze e anche il gruppo di lavoro. Grazie. Grazie.